In autunno lavori in tutto il terzo piano del corpo ad H dell'ospedale San Biagio di Domodossola che ospita il country pediatrico e diversi studi medici per la rimozione del pavimento contenente amianto. Dall'ASL precisano che al momento non è pericoloso. Si stanno verificando gli spazi disponibili per ricollocare temporaneamente il country. Trattandosi di un servizio di emergenza, un'ipotesi potrebbe essere quella di spostarlo nell'area verso il DEA. Il cantiere resterà aperto per 4 mesi circa e interesserà anche il pianerottolo del secondo piano antistante l'ingresso al punto nascita. Quest'ultimo, opportunamente isolato con percorsi alternativi, continuerà a funzionare regolarmente. L'ASL VCO, scusandosi per i possibili disagi, assicura le attività sanitarie attualmente svolte negli spazi interessati dall'intervento verranno comunque garantite all'interno del presidio ospedaliero. Verrà predisposta anche una segnaletica provvisoria. I lavori si rendono necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio che vuole la compartimentazione del vano scala a livello di secondo e terzo piano analogamente a quanto già effettuato nei mesi scorsi negli altri piani dello stesso edificio. Per legge, prima della compartimentazione, è necessario rimuovere eventuali manufatti contenenti amianto seppure integri e non pericolosi, come peraltro il risultato dall'ultima verifica effettuata riferiscono dall'azienda sanitaria. Ditte specializzate dovranno rimuovere il pavimento contenente vini lamianto. Ciò determinerà la necessità di confinamento delle aree oggetto di intervento con accesso esclusivo agli addetti ai lavori.